La pagaia in mano, pronto per solcare le onde, Matteo Repeto, l'hai già fatta la canoa? Sì, me le volte. Com'è bellissima? Troppo bella. Troppo bella, però senti qui a Sapada, canoa, tiro con l'arco, beach volley, pallavolo, calcio, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. La cosa che ti piace in assoluto di più? È tutto. Tutto, non riesci a scegliere. No, no, no. Ma sei bravo a calcio? Oh sì. Diamo una lezione a questi ragazzi che hai vicino? Facciamo una sfida, vediamo un po' chi è più forte? Lo spero a chi è più forte, vedrai. Ci proviamo. Senti, sei tifoso del giro o della Samp? Della Samp? Della Samp? Allora senti... Bravo! Ok, qua mi sa che sono tutti dalla tua parte. Senti, ma quando ci sarà il derby a settembre allora tu vestirei la maglia della Samp? Esatto, la parte della Samp? Da quanti anni fai sport insieme al BIC? Nove anni. Nove anni, ormai davvero possiamo dire che questa è una grande famiglia. Siete tanti, tanti amici, siete insieme da tanti anni. Eh sì, sì, sì. E per te fare sport con i tuoi amici al BIC che cosa significa? Significa amici, rispetto e anche qualcosa di più. Ti senti bene quando fai sport? Oh sì. E allora che sia una grande giornata di sport. In bocca al lupo! Ok. 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 Ok Ok. Ok.